che valore avrebbe don giuseppe inviato speciale don giuseppe gervasini e il pre de ratanà 1867 1941 risponde per via medianica sui temi importanti dell'esistenza prima e dopo la morte i libri del casato il giornale dei misteri a cura di luciana petruccelli e ho capito comunque non si sa mai come scegliere fra più alternative rendendosi conto a posteriori di avere sbagliato in una determinata circostanza nel caso si presentasse la stessa occasione non commetteremmo più lo stesso errore memory dell'esperienza precedente ma pur decidendo in altro modo non sapremmo mai se la scelta diversa è stata migliore o abbiamo commesso di nuovo un errore effettivamente è difficile fare delle scelte don giuseppe d'altra parte che valore avrebbe la vita se fosse guidata da presentimenti di proposito la vita dell'uomo è assolutamente sconosciuta prima del tempo proprio perché deve essere libero di operare le sue scelte normalmente per quanto lui crede con libertà di mente e quindi con libertà dopo di poter giudicare se le scelte sono state giuste o meno l'uomo dovrebbe sempre valutare bene prima per poter capire dopo se ha scelto bene in ogni modo questo è un mistero che l'uomo non potrà mai comprendere anzi vorrei dire che è uno dei misteri fondamentali della vita del corpo se questo mistero non esistesse l'uomo non avrebbe bisogno di fare esperienze per conoscerlo dopo da spirito ha la possibilità di comprendere oggi io posso comprendere ciò che voi adesso non comprendete ma in una prossima vita io sarò come voi e non potrò comprendere quello che desidererei perché avrò dimenticato le conoscenze accumulate dal mio spirito nella vita precedente sarò costretto a scegliere senza conoscere ma poi alla fine di quella vita tornando spirito ricorderò le conoscenze del tempo precedente che aggiunte a quelle fatte nella nuova vita mi porteranno avanti nel cammino della conoscenza dei misteri dell'universo